Accoglienza, formazione e integrazione sono le parole chiave per un'agricoltura di qualità che bandisca percorsi illegali di reclutamento della mano d'opera specie straniera e si trasformi in un grande laboratorio di inclusione. Ha in sostanza questo obiettivo il progetto nazionale Diagrammi della Flai CGL finanziato con fondi europei dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. C'è anche la Basilicata tra le regioni del sud in cui sono previsti interventi specifici per combattere la piaga dello sfruttamento e del caporalato attraverso il coinvolgimento di istituzioni locali, sindacati, associazioni e cooperative impegnate con i migranti. Articolazione e finalità del progetto sono stati illustrati nel corso di un incontro a distanza al quale hanno preso parte oltre al segretario regionale del sindacato dei lavoratori agricoli della CGL Vincenzo Esposito e al coordinatore della TSC Estrem Giovanni Ferrarese il prefetto di Potenza Michele Campanaro e i rappresentanti delle agenzie e dei soggetti partners dell'iniziativa. Assistenza legale, formazione linguistica, civica e professionale, sistemazione abitativa, accesso ai trasporti sono alcune delle azioni da mettere in campo con il contributo di una rete territoriale di assistenza che veda coinvolte anche le imprese nel percorso che va dalla prevenzione dei fenomeni legali all'inserimento lavorativo vero e proprio.